Guarda che io non ho detto a tu l'avo E adesso ti dovrei mettere un po' di... Un po' di di queste qui dentro, va bene? E metti... Un po' di copia, un po' di... Ma le metti, un po' di... Di qua di questi... Metti... Anzi la mamma... E metti la qua... bravo c'è un'acqua adesso io ti metterò un po' d'acqua così che si lavora vieni vieni vieni